Elisabetta Rossi, Assessora al Turismo per il Comune di Acquavio e Picena, in che modo la Città della Fortezza si è preparata con gli eventi per l'estate 2014? Buongiorno a tutti, noi abbiamo deciso quest'anno di presentare un ricco e folto calendario di eventi rivolto in particolar modo ai giovani. Di fatti sono state messe in campo diverse iniziative a livello musicale e a livello di danza. Nel mese di luglio avremo cinque concerti musicali, in particolar modo portiamo avanti Acquavio a Rock Night che si è da diversi anni ed è rivolto proprio a quattro gruppi emergenti locali per mettere in mostra quello che è il loro talento, la loro bravura e la loro passione in particolar modo. Acquavio è caratterizzata naturalmente dalla Fortezza, elemento simbolo e di richiamo, in che modo questo simbolo acquavivano sarà utilizzato anche per la promozione turistica ma anche per gli eventi? Allora purtroppo quest'anno devo dare una brutta notizia in quanto la Fortezza è oggetto di lavori di restauro per cui non sarà fruibile, non sarà visitabile. Lo è stato fino al 2 giugno proprio perché c'era l'Università di Bologna che conduceva le ricerche e hanno permesso ai visitatori di entrare all'interno e visitare proprio gli scavi direttamente accompagnati dai ricercatori dell'Università. Però fino a fine anno sicuramente non sarà visitabile dai turisti. Previsioni invece per quanto riguarda l'afflusso turistico negli alberghi, bed and breakfast, country house, acquavia? Noi speriamo bene in quanto dal raffronto delle indagini 2012 e 2013 abbiamo visto che il turismo ha avuto un trend positivo per cui crediamo che anche quest'anno mantenendo l'impegno che c'è stato fino ad ora riusciremo ad avere una buona stagione estiva. Grazie a tutti.